Io sono in Nuova Zelanda perché non ho avuto un'offerta di lavoro vi racconto un po' la mia storia per chi non mi conoscesse momento della storia che lavoro fai? Io faccio il cuoco allora la mia storia è iniziai 5 anni fa a lavorare in una sorta di bar dove facevo gli hamburger gourmet e lì c'era uno chef che lavorava una volta in uno stellato che era nello stesso paese dove lavoravo e gli ho chiesto come erano questi posti stellati e allora lui mi ha detto ok ti farò vedere cosa vuol significa e da quel giorno sto chef ha iniziato a maltrattarmi non sai neanche tagliare una carota o tipo sapete le solite cose da militare in onnismo io mi diceva taglia una carota e fa queste fette di carota non è una dritta allora mi interessa a me piacciono le sfide sono competitivo ma allora scusate sono così le cucine stellate sono così così duri così incazzosi mi piace questa storia e allora ho detto ok proviamo e ho fatto una sorta di io ho fatto lo scientifico ho fatto scientifico e linguistico ho detto vabbè proviamo faccio una sorta di faccio una sorta di master di tre mesi per la cucina e da lì ho già l'aggancio inizio a lavorare inizio a lavorare e allora io li faccio faccio questo una sorta di corso e ho l'aggancio e inizio a lavorare in ristoranti stellati inizio con una stella poi mi sposto a due stelle andavo ad Amsterdam nel frattempo viaggio un po' sto a Parma Torino Amsterdam adesso sono qua Nuova Zelanda Auckland allora quindi ho lavorato nella cucina stellata ho fatto il cuore il mazzo viaggio un po' al mondo l'Italia vado ad Amsterdam ad Amsterdam lo chef gli faccio chef vorrei viaggiare un po' più fuori dall'Europa vorrei andare un po' più lontano gli faccio un amico in Nuova Zelanda un bellissimo ristorante e bla 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 e allora gli dico vabbè senti io siccome voglio andarmene da qua siamo d'accordo ci mettiamo d'accordo finito il contratto vado là ok va bene boom finisco il contratto porco dio ok allora mi fa vabbè vuoi andare a Nuova Zelanda diciamo voglio andare a Nuova Zelanda fa ok questo posto qua è un posto un po' sperduto però la cucina è vivello lo chef è bravo va bene mandami là allora vado qua vado a Nuova Zelanda e lavoro in quel posto per tipo tre mesi tre o quattro mesi e è una certa a me io ho sempre giocato un po' a Fortnite nel frattempo tipo la sera tipo la sera io lavoravo tipo io lavoravo tipo 10-11 ore al giorno tornavo a casa del lavoro mi bevevo una tazza di caffè da un litro e giocavo tre ore a Fortnite ogni giorno ok non dormivo un cazzo la notte dormivo cinque ore massimo sei la notte quindi la mia vita piano piano stava dicando una merda perché ragazzi dormire è importante almeno sette ore devi dormire allora io faccio ok mi piacciono i videogiochi no cioè non i videogiochi mi piace la competizione di Fortnite nei videogiochi ok mi piace proprio giocare ok come potrei farlo diventare un lavoro o un modo per non perdere solo tempo ma guadagnarci dove erano diventare un pro player o uno streamer ho iniziato a provare diventando un pro player ma è difficilissimo col lavoro perché io lavorando sabato e domenica i tornei sono sempre sabato e domenica il pro player non riesco a farlo perché non gioco i tornei che cazzo i pro player sono se non gioco i tornei quindi ho detto vabbè allora proviamo a farlo lo streamer piano B sì ragazzi questo è il mio piano B ok però vabbè insomma l'importante è che si sia contento mi piace lo stesso anche streamare perché sono una persona che si entra a tenere sono simpatico modestamente che cazzo cosa stai facendo zio cane porco e e quindi insomma ho detto facciamo lo streamer inizio a fare lo streamer e però aspetta scusate ho soltato un pezzo secondo me hanno dato il cazzo di lavorare lì ho detto prima fare lo streamer ho detto devo cambiare lavoro non posso continuare a fare quello che faccio il lavoro che facevo io nei restanti stellati o comunque di lusso ti richiedono minimo dieci ore di lavoro al giorno minimo 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 e allora io ho detto ok se minimo ci voglio dieci ore al giorno come faccio a streamare è impossibile e allora ho detto ok è il momento di cambiare lavoro e allora ho trovato un ristorante sempre carino ma lontanissimo dal livello di qualità che sono abituato io beh io sono abituato a lavorare l'imposto dove il menu costa minimo minimo cento euro qui costa normale costa molto costa adesso non mi ricordo neanche quanto costa una cena ma poco costa dipende come vuoi tu insomma non c'è un limite minimo puoi pagare anche cinquanta euro e mangi benissimo e allora accetto dico perché no proviamo e nel frattempo provo a streamare vedere come va allora io ho iniziato a streamare dandomi anzitato a streamare dandomi un limite di ehm ehm dandomi un limite tipo di sei mesi iniziamo a streamare anzitato a streamare tre mesi e mezzo fa iniziamo a streamare vediamo come va vediamo se riesco a portare a casa un po' di guadagno un po' di insomma qualcosa di soddisfazione di ok proviamoci eh allora ho comprato un nuevo computer ho iniziato e sta andando abbastanza bene raga sono felice di per quanto ci sono alti e bassi sono felice del livello che abbiamo raggiunto e va bene insomma la risposta ve l'ho già data tutto a posto grazie faccio i capelli che farmi bello per i miei viewers to enjoy man i learned how to enjoy them i don't enjoy 20 minutes q that's point what the fuck holy shit boys power tv isosti me no ragazzi no ragazzi power sei il migliore no no ragazzi no ragazzi no non potete dirmi questo grazie power sei il migliore cazzo sei il migliore power si sono in italiano ragazzi non preoccupatevi orca puttana oh my god power oh mio dio oh mio dio oh mio dio ragazzi power ti amo sei un grande cazzo no no ragazzi no ma dai era il migliore ma ia non me ne ho neanche accorto bella ragazzi no power è il migliore cazzo il migliore cazzo oh mio dio no ragazzi Orca troia Non ci credo, non ci credo ragazzi Cioè mi sembra di essere un sogno È un sogno ragazzi No, no, no Ragazzi gioco in oceania io Cioè Ma non me lo aspettavo ma neanche Guarda, neanche tutta la mia vita E' stato stata la power Mi sa che neanche lo sto seguendo in questo canale Cioè capito Ragazzi io streamo da due settimane Da due settimane streamo ragazzi Cioè ragazzi da due settimane streamo Porca tua E ci ha già lost da mille più No, no, no Power on international Grandissimo Porca vacca No ragazzi No, la mira l'ha imparata da power ragazzi L'ha imparata da lui ragazzi Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Forca troia ragazzi Ma non ha parole, non ha parole Non so cosa dire Cioè vorrei ringraziare power Non so se mi sta guardando ma Cioè lo ringrazio con tutto il mio cuore Cioè Ragazzi Porca troia No Ragazzi Non so cosa dire Non so cosa dire Sono fortunato Cazzo posso dire Porca vacca ragazzi No Non ci credo Non ci credo Grazie ragazzi Cioè non riesco a spiegarmi Non riesco Cioè io stavo Ero il mezzo di una fight pazzesca ragazzi Cioè nel senso Avevo dieci di vita Tutti mi pusciavano Uno da destra Uno da sinistra Quello che voleva farmi il trickshot Oh Finisco sta cosa Gli ballo sopra Perché boh Non so Avevo venti di vita Mi giro E vedo mille più viewers Ragazzi Ho detto ma che cazzo Ma che cazzo è successo E poi ho scoperto che mi è stato power Cioè Power ragazzi Cioè non è che mi è stato Cioè un altro italiano Cioè non so Sono felicissimo ragazzi Sono felicissimo Non so neanche se sto più a concentrarmi a giocare Ragazzi Cioè Mille passa viewer Non so Move Parca troia lei FBI Open up Ragazzi Non leggo la cazzo It's me Mario Mamma come godo GG man è stata una partita C per bolina Simpaticissima Divertente ed emozionante Lasciate una salva di un finale Perché sono il più creativo ed educato Giocatore di Fortnite italiano Grazie Grazie Arrivederci Fa' il culo dio Porco dio Ora la voglio provare io Su sta sensazione Fa' il culo cazzo Danira fa schifo Gli ocani Yo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.